Don Beppe sono io, dite. Buonasera. Ah, Marano. Marano? Si. Si. E voi avete un naso scassato? No, Alberto. Come? Non so sempre che ha parlato con un naso, ha parlato. Alberto, c'era affrettore. Che vanno a me finito un naso? Eh? Se vede che hanno sbagliato per tutti. Pronta? Pronta. Si? No Gornudo. E sono Gornudo. Eh, ma bello, sono Gornudo. E si ma così. E bello non basta passare con Gornudo, se vede o no? Bello, se vede. Ah, quando non basta con Gornudo, apposta di senato, è troppo bello. Ah, certo. Mostro, oi. Pronta. Pronta. Vai escapar da babuca, qui. Ah, ma bello. Ah, 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 ah. Eh, se è che, bussa faccio sia presa presa. Ma che cosa sa beccata? Voi vado a barato, c'è o? Chi è, Mons. Alberto? Ma accettate. Chi è? Unasci, for a casa, un'uso, non so ne che, st'amana, vado a portare, vado a portare. Eh, non ho, eh. Se non... Purti, sapato, st'amato, vai due ti sei. Ma se non ti, se non ti depronto. Ah, c'è il tato abbia, for a bambacca. Ah, c'è il tato abbia, for a bambacca. ọ che deve piùthrough.